buongiorno buongiorno cosa ha fatto ieri il milan perché io non sono un tifoso che guarda le partite ha vinto ha vinto 2 a 0 a non c'era ibrahimovic ah ho capito non c'era quindi ibrahimovic quindi il milan è ancora ancora primo va bene non c'era quindi ibrahimovic grazie salve benvenuti nel nuovo video da domenico non si poteva iniziare un lunedì migliore smaccando tutti quei gufi che continuano a dire che siamo ibradipendenti e ogni domenica dobbiamo perdere perché loro devono recuperare e invece ogni domenica diamo due o tre pere a tutti quanti anche chi continuano a dire che sulla carta siamo più scarsi e loro sono più forti e ogni domenica prendete due o tre pere anche senza il nostro leader in campo anche senza il nostro allenatore abbiamo dimostrato come continuo a dirvi che il milan è l'unica squadra in serie a che ha gioco che è squadra e lo sta dimostrando ogni domenica anche senza i suoi leader avete capito il nostro leader poi prendo un'altra parentesi ieri il nostro leader anche se era infortunato era in panchina era in panchina a spronare i suoi giocatori a esultare ci sono altri leader di altre squadre che se la passano lì possono andare a giocare stanno gli sraiati sul loro divano a guardarsi la sua squadra che pareggia col benevento comunque lasciando stare passiamo alla partita di ieri ma ragazzi prima di tutto mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale mi raccomando è importantissimo grazie a tutti quelli che si sono iscritti ieri perché dopo la live reaction ci sono iscritti un bel po di persone vi ringrazio veramente tantissimo perché stiamo crescendo ed è tutto merito vostro grazie mille signori andiamo con le pagelle allora signori gigio donna ruma ma che cacchio gli dobbiamo dare a gigio donna ruma 8 e mezzo 9 oggi farò lesoso perché sono contentissimo ragazzi gigio donna ruma 8 e mezzo 9 dai una via di mezzo perché gigio donna ruma continua a dirlo e continuerò a dirlo è uno dei portieri forse il portiere più forte che c'è in circolazione in questo momento si presenta con un colpo di reni e devia la palla il missile di vlaovic sul palo fa una parata pazzesca pazzesca sopra riberi ormai quella palla gli stava passando tra la mano e la testa era qua lui ci mette la manona e poi l'ultimo intervento anche bello sul colpo di testa di pezzella se non mi sbaglio che blocca per terra gigio donna ruma secondo me è il portiere più forte che c'è in circolazione perché ogni partita comunque ci mette sempre il suo e fa delle parate veramente incredibili quindi ragazzi 8 e mezzo 9 dai siamo esosi poi calabria 8 calabria è in forte crescita ogni partita che gioca calabria sta crescendo sempre di più perfetto nelle diagonali difensive si propone anche in avanti calabria sta con le prestazioni e mettendo a tacere tutte le critiche degli altri anni quindi ragazzi bravo bravo calabria poi ragazzi chier gli ho dato 8 un guerriero chier è un guerriero non sbaglia un intervento chier non sbaglia un intervento ragazzi il minan ha trovato veramente un grande grande difensore veramente anche lui in difesa un leader poi ragazzi romagnoli 7 romagnoli semplice alla pagina di romagnoli mette a tacere le critiche di questo ultimo periodo su di lui col gol quindi romagnoli 7 teo hernandez 7 e mezzo ragazzi cassarest va a casa che non sa più come si chiama praticamente perché teo hernandez ieri l'ha imbambolato anche sul rigore l'ha mandato praticamente l'unica soluzione che c'era da buttarlo a terra perché praticamente con rientrando di tacco l'aveva praticamente saltato e costringeva la fiorentina a giocare sempre dall'altra parte quindi ragazzi ti hernandez veramente ha mandato a casa cassarest che non sapeva come si chiamava 7 e mezzo grande teo tonali tonali 6 e mezzo io secondo me continuo a dire che io lo vedo in crescita io lo vedo bene l'ho visto bene in coppa ho visto qualche buona cosa in coppa l'ho visto bene anche ieri o se visto qualche cosa anche magari parte un po a rilento ma poi dopo si riprende quindi anche ieri l'ho visto bene il ragazzo io io continuo a dire che in crescita secondo me vedo sempre ogni partita uno step che fa salire di livello il ragazzo io gli darei continuamente fiducia perché secondo me tonali verrà fuori piano piano quindi 6 e mezzo poi ragazzi che si 8 dominatore del centrocampo che si ragazzi è un giocatore veramente incredibile anche lui domina il centrocampo è in continua crescita sembra che ogni partita cresce sempre di più spizza per il gol di romagnoli segna il rigore fa niente sbaglia il secondo ma comunque il calcolo delle probabilità e due rigori in una partita può succedere comunque l'importante che segna il primo rigore fa l'assist spizzando di testa per romagnoli e ragazzi è padrone del centrocampo quindi che si 8 poi ragazzi sale makers sale makers 7 e mezzo sale makers io gli direi instancabile sale makers è instancabile ragazzi corre come un treno fino al novantesimo fin quando mi sembra che l'ha sostituito nell'ultimo minuto negli ultimi minuti comunque ragazzi corre veramente tanta tanta corsa tanta qualità di sale makers veramente non mi aspettavo da questo ragazzo così tante qualità veramente instancabile poi signori cialano glu 7 e mezzo cialano glu gli manca solo il gol ieri perché nei 90 minuti di cialano glu si sono visti veramente dei colpi da grande campione cioè se entra quello stop quando quando stoppato se girate ha tirato si entra io spacco a testate il muro di casa perché veniva giù il gol dell'anno praticamente veramente veramente ha dei colpi veramente da campione cialano glu sta venendo sempre di più fuori e io io a me mi piacerebbe che cialano glu rimanesse però se lui ha scelto le vie dei soldi comunque sembrerebbe che magari qualcosa in queste settimane potrebbe cambiare io spero che rimanga perché veramente veramente cialano glu sta dando veramente tanta qualità al milan ed è veramente avete visto anche sul palo cioè lascia secco sul posto di difensore tira con piede che non è neanche il suo prende il palo e cialano glu veramente tanta roba a me mi piace tanto poi ragazzi diaz diaz 6 e mezzo potrebbe fare di più magari è un giocatore che piano piano anche lui ha bisogno di tempo e deve crescere ha degli sprazi importanti però deve crescere anche lui comunque è un giocatore che dà comunque tanto in campo tanto cuore in campo però magari deve crescere ancora un po 6 e mezzo ragazzi nebic non è ancora devastante come l'anno scorso ricordiamo in quel momento che praticamente segnava sempre lui ricordiamo che il nostro re bici migliore cosa dell'anno scorso non è ancora quei livelli ricordiamo che è rientrato da poco però anche lui tanto tanto cuore sì che si sacrifica davanti anche lui in crescita comunque anche le bici 7 dai gli diamo un bel 7 oggi esosi e poi ragazzi vorrei dare un 8 a ibrahimovic ragazzi come vi dicevo all'inizio del video è un vero campione anche fuori da campo ieri lui infortunato si è presentato comunque in panchina ha spronato la squadra era lì che esultava il gol veramente un grande campione anche fuori dal campo ne avevamo bisogno e sta facendo veramente tornare il milan grande il milan che comunque come vi ripeto è l'unica squadra secondo me che è veramente una squadra che ha gioco a qualità il milan ogni domenica sta facendo vedere un buon calcio a tutti anche con squadra contro squadre che sulla carta le davano comunque più favorite guardiamo napoli guardiamo contro l'inter guardiamo ieri contro la fiorentina la fiorentina quest'anno quando è iniziato il campionato sembrava che doveva essere una squadra sulla carta invece ieri gli abbiamo dato dietro le orecchie pure alla fiorentina signori queste sono le mie pagelle scappo perché vado a lavorare e se volete dire le vostre pagelle mettetele pure qua sotto che sapete io vi rispondo e ci consultiamo mi raccomando iscrivetevi al canale e sempre forza milan e mi raccomando è ai gufi che dicono però il milan voi rispondetele sempre in un solo modo ciao ragazzi